E' difficile trovare tutti qua sotto, Mauro Scardovelli, Enzo Vennetta lo vedo, siamo anche qui Mohamed Conarè, un applauso anche a Mohamed Conarè per favore, adesso do la parola a Giulietto Chiesa, un applauso anche per lui. Allora, avrete voglia di ascoltare molto anche gli altri, io parlerò poco ma dirò solo due o tre cose. La prima è questa, è una proposta, la prossima che facciamo non facciamola qui, facciamola sotto la RAI. Perché noi siamo a un fatto nuovo sul panorama italiano, no, è una cosa nuova oggi che sta avvenendo, non ne parlerà nessuno, noi non andremo in onda sui sette canali della televisione italiana. E quindi noi dobbiamo imparare secondo me, sarebbe importante imparare a tenere sotto tiro i giornalisti che mentono tutti i giorni. Non lo dobbiamo far sentire perché sotto loro si sentono e se siamo qui non ci vede nessuno, siamo in tanti ma non ci vede nessuno. Dobbiamo fare in modo che loro siano costretti, dobbiamo farli sentire circondati da molta attenzione, da molta gente. Quindi la mia è una proposta seria, andiamo a dimostrare sotto le sedi di chi controlla la comunicazione italiana. Perché se, come è stato detto qui prima di me, c'è una parte della popolazione che è già stata lobotomizzata e vive in stato di incoscienza, perché questo è, se noi siamo qui, tanti quanti siamo e non siamo il doppio, il triplo, 40 volte di più, è perché il controllo della comunicazione è interamente nelle mani del nemico. Quindi mettiamo al primo punto di una nuova piattaforma politica la conquista della comunicazione democratica in questo paese. La seconda cosa che voglio dire, io considero il punto centrale, perché se no sono chiacchiere, se no finisce che parliamo tra di noi. Dobbiamo capirlo che loro parlano ogni giorno a 30 milioni di persone, se no capiremo questo saremmo sconfitti domani, dopo domani anche. Questo per me è il primo punto di una piattaforma politica per cambiare questo paese. Il secondo tema che voglio toccare è la guerra. Questa manifestazione l'abbiamo convocata quando ancora non c'era la guerra. E mi pare che qui si parli poco della guerra, perché noi siamo in guerra. L'altro ieri è cominciata una nuova guerra. E questa è una cosa cruciale, perché è la guerra provocata da un membro della Nato, che è un nostro alleato, non dimentichiamo questo, da un altro membro della Nato, che comanda la Nato e che sono gli Stati Uniti. E entrambi stanno utilizzando un'armata di terroristi che sta combattendo sul territorio siriano in totale illegalità. Se noi non capiamo che questo tema della guerra è il tema del domani, noi non potremo parlare ad alta voce e con la fronte alzata al popolo italiano. Ecco la seconda cosa che noi dobbiamo mettere nel nostro programma. Fuori dalla guerra! L'Italia deve uscire dalla guerra! E uscire dalla guerra significa in primo luogo dire che noi vogliamo essere neutrali. È possibile dire questa cosa, è credibile, è importante. Perché in tutti questi talk show che avete visti nel corso del governo giallo-verde, per un anno intero ci hanno ammorbato la testa dicendo che non ci sono i soldi. E nessuno, ma nessuno, né di sinistra, né di centro, né di destra del governo, ha ricordato che noi spendiamo 70 milioni di euro al giorno per pagarci una difesa che non servirebbe in caso di guerra neanche per due ore. I soldi sono lì! I soldi ci sono! Sono 25 miliardi di euro che noi buttiamo via dal vento! E ieri abbiamo avuto la notizia che il nuovo abatino che governa questo paese, si fa per dire, cioè il conte, ha dato altri 7 miliardi. 7 miliardi! Alla Nato! Quindi, queste sono le cose che volevo dirvi. Queste sono le cose che volevo dirvi. Se noi non conquistiamo la comunicazione, noi saremo sempre deboli, strategicamente. La terza cosa che voglio dirvi è molto importante. Secondo me è forse la più importante di tutte. Il 5G. Sta per arrivare il 5G sulle vostre teste, sulle vostre cellule, sui vostri cervelli, sulle vostre onde mentali. Questa sarà una minaccia alla vita dei nostri figli e alla nostra. Noi dobbiamo dire a questo governo che sorgerà un movimento popolare di massa che dirà che questo non si deve fare. Comune per comune, città per città, noi dobbiamo sollevare non solo la protesta verbale, ma dobbiamo impedire che siano alzate queste antenne che saranno puntate contro i nostri cervelli. Questa è una questione cruciale, questo non è progresso, questa è distruzione dell'uomo. Questi sono tre punti che io propongo per la piattaforma politica del nostro futuro. Ringrociamo Giulietto. Prima di dare la parola a Mauro Schiardovelli, voglio ricordare i nomi dei delegati spagnoli che dovrebbero portare i loro saluti. Quindi spero che mi capiscono. La Giorgia Bitaku, Ramon Franchesa, Manolo Monereo, sempre dalla Spagna, Michelle Desen, dalla Francia, Amanda Hunter, dall'Inghilterra, Vini Lantares, dall'Austria, e anche Costas, sempre dalla Grecia. Please, thank you us here. Allora, uno dei promotori di questa manifestazione, che per noi è stato molto prezioso, si chiama Mauro Schiardovelli. Gli diamo la parola. Sono molto contento di essere qua e che siamo tutti insieme. e il messaggio fondamentale che vorrei portare per integrare quello che è stato detto fino adesso è che un programma, noi ce l'abbiamo già, è la nostra Costituzione italiana. bravo! Allora, se inizio con una cosa che sentiamo tutti i giorni nei telegiornali e nei giornali, mancano i soldi, facciamo questo, non si può, mancano i soldi. Per la scuola, mancano i soldi. Per gli ospedali, mancano i soldi. Per la ricerca, mancano i soldi. Per curare gli anziani, mancano i soldi. Per andare in pensione, mancano i soldi. Mancano i soldi. Allora, vi racconto una breve storiella per via di Roma. Conoscete quella, sui schiacci di verdone, in cui è sul letto con un berettino bianco e gli chiamano al telefono. Chiamano, vorrei parlare con la zia Adelina. La zia Adelina è morta. No, ma vorrei parlare, ma ti dico io che è morta. Eccetera, e va avanti. A un certo punto dice, ma quell'altra è pazita. Eh, lo sapevo. Quando andavo a trovarla, la zia a tal dettaglio, mi diceva, quanti anni mi dai? Quanti anni mi dai? Quanti anni mi dai? Mancano i soldi? Mancano i soldi? Mancano i soldi? Au! Assassini? Ma i soldi si stampano. Bravo! C'è, è chiaro che se i soldi li dobbiamo prendere a prestito, mancano sì, perché ci indebitiamo. Anche il bambino dell'asilo, capisci? Ma noi, la nostra Costituzione, la radicola 1 parla di sovranità popolare. E ci può essere una sovranità popolare senza sovranità monetaria? E allora è molto semplice. Tutti quelli che vogliono, che hanno fatto leggi portandoci via la sovranità popolare, hanno semplicemente fatto delle leggi incostituzionali. Allora, se sono incostituzionali, per chi conosce un minimo di diritto, cioè ha studiato due o tre ore, lo sa, certo, molti al Parlamento non lo sanno, ma poveracci, poesimino, ma lo sa, che sa, sa che un giudice non può applicare una legge incostituzionale, non lo può fare, perché il suo compito è rinviare la Corte. E' molto semplice. Quindi, anche i giudici, siccome hanno studiato nelle università di oggi, che sono università neoliberiste, queste università neoliberiste insegnano ai nostri studenti come distruggere il nostro Paese, cioè come distruggere la nostra Costituzione. E' evidente che queste università stanno facendo qualcosa che è costituzionalmente illegittimo. Allora, siccome l'ignoranza, per le cose che ha detto prima Giulietto, si sta diffondendo, perché l'ignoranza è parte centrale del modello neoliberista. Neoliberismo muore in un attimo se la gente ha un minimo di cultura. Ci vuol mica molto. Ecco, però, come ha detto Giulietto, come lo dice benissimo, nel momento in cui la nostra mente è lobotimizzata dai mass media che sono in possesso dei neoliberisti, è chiaro che noi pensiamo, con la nostra testa, in modo neoliberista. Quindi ci crediamo in trappola. Ci siamo dimenticati che c'è stata una resistenza, che c'è stata un'assemblea costituente che ha votato la Costituzione. la Costituzione italiana è riconosciuta universalmente come la più democratica, la più avanzata del mondo. sulla Costituzione italiana la dichiarazione universale dei diritti umani è stata modellata sulla Costituzione, prendendo le parole della Costituzione. Per esempio, nella dichiarazione universale si parla di diritto al lavoro. Diritto al lavoro dignitoso. Per chi? Per tutti gli esseri umani. non solo per quelli dei paesi ricchi, per tutti. Due. Si parla dell'autonomia, dell'indipendenza, dell'autodeterminazione dei popoli. Quali? Quelli ricchi? No, tutti. E noi che siamo un paese ricco, manco noi siamo autodeterminati, perché ci determinano le banche. È una follia. Capite? Siamo di fronte a qualcosa che è folle. Così come la Costituzione è una fonte superiore alle leggi ordinarie, così la dichiarazione universale dei diritti è una fonte superiore ai trattati. Ma scherziamo? Allora, oggi non sono qui in piazza due giuristi, massima autorità su questo, che sono, che le conoscete, Paolo Maddalena e Barra Caraccio, che lavorerà. presto saranno da noi, perché le idee che vi porto oggi non me ne metto mica io. Io ho segnato diritto costituzionale, ma deve a Paolo Maddalena la comprensione della Costituzione italiana. Ecco. Bene. Assolutamente. Faccio una seconda cosa. Si può ancora... Si fermi, eh. Io per mare. Si, no, per il ritmo, no. Non voglio fermarti perché è sempre interessante. No, dimmi. Ci sono due minuti. Due minuti mi sono sufficienti, grazie. Perfetto. Allora, due cosette, una al minuto. Allora, la prima. Noi sappiamo che esiste la Costituzione economica, i costituzionalisti non lo sanno molto spesso. La Costituzione economica prevede, semplicemente, che la speculazione delle banche è viettata dalla nostra Costituzione. Fine. Perfetto. Abbiamo tutta la possibilità di ristrutturare il debito, perché il nostro debito è fatto ormai al 100% di interessi pagati, ingiustamente, solamente per il fatto che abbiamo. C'è stata sottratta la sovranità monetaria. Seconda cosa. Si parla in Costituzione e anche nella Degiorazione Universale di pieno sviluppo della persona umana. Che vuol dire? Vuol dire il pieno sviluppo della coscienza etica, sia di noi, ognuno di noi, la mia, la tua, la sua, sia del popolo intero. E per questo ci vuole una scuola, così come prevedeva Moro. La scuola e l'università devono fare formazione ai valori della Costituzione. per quanto riguarda l'informazione e le cose, le ha già dette Giulietto, anche l'informazione deve essere un'informazione orientata ai valori costituzionali. Con questo vi saluto, vi ringrazio. Bravo! Allora, un grazie doppio a Mauro perché...